Siamo a Taranto in Viale Magna Grecia sulla famosa pista ciclabile, una pista ciclabile che ad appena un anno di vita già si sta rompendo, sta dando segni di cedimento. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, agronomo. Una frittata bella e buona, anzi brutta e cattiva. Una brutta frittata questa Gigi perché qui noi abbiamo soldi che dovrebbero essere utilizzati per la mobilità urbana, quindi la pista ciclabile serve per lasciare la macchina e quindi andare a lavoro con la bicicletta. Però c'è un piccolo problema, che il manufatto cementizio che noi abbiamo stato qui possiamo vedere, di fatti è stato troppo addossato alle antiche alberature presenti, perché ricordiamoci che questa Viale Magna Grecia è una delle poche strade alberate della città e già possiamo vedere i risultati dopo appena un anno l'albero che è un essere vivente sta incominciando a rompere la pista ciclabile. Questo solo dopo un anno. In realtà cosa sarebbe stato opportuno fare da un punto di vista progettuale? Eliminare la passeggiata, perché qui noi abbiamo una pista ciclabile e accanto una passeggiata, peraltro pericolosa. Centrare quindi la pista ciclabile, allontanarla definitivamente dagli alberi e quindi consentire poi in definitiva di poter andare regolarmente in bicicletta. E lo stesso errore lo si sta rifacendo sul secondo lotto della pista ciclabile? Sul secondo lotto della pista ciclabile, quindi vorrei invitare i tecnici dell'amministrazione a valutare questi che sono i danni oggi esistenti. Assessore Lonocce, Assessore ai lavori pubblici, nonché Vice Sindaco, ora vogliamo da lei queste risposte. Lei si vanta tanto delle azioni, dell'operato di questa amministrazione, del suo Assessorato e poi assistiamo, vediamo queste schifezze. La pista ciclabile è una schifezza.